Alla Betone si è disputato un Pinocchio sugli sci con i fiocchi. Le copiose nevicate precipitate da domenica scorsa hanno fatto lavorare gli uomini dell'organizzazione e della safa Betone e, come di consueto, hanno fatto in modo che le gare si potessero disputare nel migliore dei modi. I 180 piccoli atleti che oggi hanno sciato immersi in questo inverno marzolino hanno portato a casa un bel ricordo del Pinocchio e della Betone. I Baby 2 non avranno presente solamente le classifiche combattute ai centesimi della loro finale nazionale, ma terranno sicuramente memoria del clima di festa che hanno vissuto durante la 36esima edizione del Pinocchio sugli sci alla Betone. Per ogni categoria vengono premiati i primi dieci classificati. La più veloce delle femmine Baby 2 è stata la bolzanina del Ritten Sport Victoria Klotz con un tempo di 1'07'77. Con 24 centesimi di ritardo dalla selezione di Sestrer si piazza al secondo posto Amelia Curto, la quale sente il fiato sul collo di Beatrice Mazzoleni, selezionata a Limone Piemonte, che chiude la gara terza a 6 centesimi dalla Corregionale. In meno di un secondo si sono classificate sei atlete. Mattia Valente vince la categoria Baby 2 maschile. Dalla selezione di San Vito di Cadore, il bellunese dello Ciclub 18 stacca un tempo imprendibile di 1'01'80. La ostano Stefano Andreis, selezionato a Courmayeur, lo segue accusando 46 centesimi di distacco. Edoardo Timon, dalla selezione di Moena, porta in Trentino la medaglia di bronzo per lo Sporting Campiglio, con un tempo di 1'02'63. I migliori atleti toscani in classifica sono stati Ginevra Ricci e Matteo Dolfi, rispettivamente in 34esima e 51esima posizione. Domani il programma prevede le gare delle categorie Cuccioli 1 e Cuccioli 2.